La responsabilità di una classe dirigente politica che tale vuole definirsi è quella che all'indomani di un evento come quello che si è verificato a Rossano oggi, ieri a Soverato, l'attività in altri posti, deve interrogarsi su perché, sulle responsabilità che causano questi danni. Rossano, il Partito Democratico tiene una conferenza stampa al ristorante e pizzeria devastato dall'acqua e dal fango e divenuto uno dei luoghi simbolo dell'alluvione che ha profondamente ferito, anche Corigliano e altri centri della Sibaritide. Ci sono i dirigenti del partito, le rappresentanze locali, consiglieri comunali e la parlamentare Stefania Covello, tutti per ribadire un impegno. Si è detto che non si esaurisce al superamento dell'emergenza, ma deve indurre la politica ad intervenire nella prevenzione dei fenomeni di dissesto. Tutto ciò avviene mentre la conta dei danni continua. La prima riunione in prefettura aveva indicato in 14-15 milioni di euro la stima provvisoria. Pochi giorni dopo il Comune di Rossano ha rendicontato invece e per difetto 52 milioni di euro. Altri 52 sono stati rendicontati da Corigliano, senza considerare gli altri centri devastati dal nubifragio del 12 agosto e le ulteriori richieste di indennizzo che pervengono agli interessati da parte dei privati.